E' stato bello questo incontro, questo abbraccio, farlo lì in questa situazione con Francesco, che è stato un capitolo entusiasmante della mia storia da allenatore Francesco. Con lui ho fatto uno dei giri più belli su questa giostra del Luna Park, su questa bellezza che è il calcio. Io l'ho visto fare giocate, lo debbo ringraziare per le giocate incredibili che mi ha fatto vedere, debbo essergli riconoscente per quello che mi ha fatto vedere. Proprio anche per questo io non ho mai smesso di abbracciarlo. Io me le ricordo bene, quelle che sono state le sue giocate sul campo, come è seduto lì in panchina. E come dicono in tanti, ma penso tutti, poi noi si dipende da quelle che sono le qualità dei calciatori. Io ho avuto tanti vantaggi ad avere allenato un calciatore come Totti.